il feedback della giornata no non ce lo faccio come no? siamo qua va bene dai siamo in diretta da villa ronchi con analisa e federico come è andata la giornata molto ma molto ma molto bene come vedi è andata benissimo non ho più voce il comune in comune la pelle d'oca è stata come è stata meravigliosa la pelle d'oca assolutamente bravi ragazzi allora è aggiunto non indifferente alla cerimonia e questo grazie a te che hai insistito fino alla fine e allora non ci resta che dire un 60% l'ha fatto arpa e violino beh il resto l'ha fatto noi un 30% noi e un 10% la celebrante la celebrante è stata un po' esuberante dai beh diciamo 100% sposi assolutamente viva gli sposi auguri grazie a te 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 Grazie a tutti